Il centro storico di Agrigento tra degrado e ipotesi di riqualificazione. Intervista all'architetto la professoressa Teresa Cannarozzo che da anni si occupa del centro storico di Agrigento. Innanzitutto, professoressa, qual è lo stato di salute del centro storico della città dei Templi? Abbastanza grave perché per decenni non si è fatto assolutamente nulla. Si sono persi i finanziamenti della legge speciale, il piano è andato al buon estremma lentezza e poi fatto il piano, il piano non si attua da solo, ma ci sono tutta una serie di misure da mettere in atto per attivare le procedure di riqualificazione. Siamo seduti sui gradini della cattedrale di San Gerlando di Agrigento, uno dei luoghi simbolo del degrado del centro storico. Da tantissimi anni una frana minaccia questa porzione del cuore antico della città. Ecco, è possibile quantomeno fermare questo fenomeno oppure questa estensione laterale distruggerà per sempre questa parte della città? Ma certo, la frana è una componente abbastanza minacciosa, però mi domando come con la frana si sia costruito questo edificio, il museo, mai finito, mai entrato in funzione, che con la sua struttura appesantisce una zona sicuramente a rischio, come è tutto questo costone nord di Agrigento. Il problema della stabilità è un problema notevole, ma non è sicuramente il solo. Ci sono comunque molti spunti che potevano essere presi in considerazione per attivare il recupero. Ripeto, intanto non perdere finanziamenti, costruire l'ufficio del piano, perché il piano poi ha bisogno di tecnici, per esempio tecnici pubblici, che seguono soltanto il recupero del centro storico e quindi che facciano un'interfaccia anche con i privati per poter erogare finanziamenti, organizzare bandi, tutte politiche di incentivo all'intervento privato, che è bene che concorra a questo processo, perché naturalmente non si potrà fare sempre e solo con la finanza pubblica. Contestualmente al pericolo delle frane nel centro storico di Agrigento si è parlato recentemente anche della possibilità di creare una cosiddetta via di fuga. Ecco, qual è la sua opinione in merito? La mia opinione è che non si sarebbe dovuto ipotizzare quell'idea di progetto che io ho visto. Queste tecniche erano messe in atto nell'Ottocento, quando si sventravano i centri storici per motivi di risanamento ambientale, misura contro il colera, contro l'affollamento. Oggi non si poteva nemmeno ipotizzare qualcosa del genere, cioè uno sventramento invasivo, tra l'altro nel cuore della Terra Vecchia, perché questa è la zona di impianto più antica del centro storico. Proprio il nucleo alto medievale, del castello di Chiaramonte, che è al posto del palazzo Arcipescovile, che è un rifacimento della residenza di Chiaramonte, la cattedrale di Pocanormanna, il castello. Qui siamo, proprio nella Terra Vecchia, che è il primo insediamento alto medievale. Quindi come si può pensare di andare a sventrare l'insediamento alto medievale e poi precipitarsi lungo un'altra parte di Gran Preggio, anche se abbandonata il quartiere Rabato Santa Croce, una delle zone più belle da un punto di vista spaziale e paesaggistico del centro storico, che è stato da criminali lasciare decadere in questo modo, dopo la frana e poi continuando a demolire le parti supersti. Tra l'altro con un'asse di grande ampiezza su viadotto, su pilotii. C'è un'operazione effettivamente pazzesca. Ora, la domanda che mi pongo guardando le carte è questa. Quando si fece il distretto militare, che è un edificio, anche quello, brutale, sostituzione, non si poteva piazzare in maniera tale da avere delle sezioni viarie un po' più ampie? Che ora dobbiamo pensare come eventualmente ampliare le sedi viarie ora nel 2010? Perché non ci si pensava prima? E si facevano le sedi viarie anche più adatte, un po' più ampie. Qui poi il problema è, secondo me, la fuga è veramente un fatto secondario. Qui il problema è l'inverso, è portare popolazione nel centro storico, portare attività, residenti, funzioni, cultura, l'università. E' un altro crimine avere condannato l'università alla contrada Calcarelle con gli sto gioieni vuoto, palazzi inutilizzati, lo stesso palazzo dei Filippini utilizzato solo in parte. Una scommessa è quella di riempire il centro storico, non di fuggire. Poi l'accessibilità e la mobilità vanno studiate e messe a sistema con metodi anche più moderni e più, diciamo, rientranti. La tecnologia del contemporaneo, che sono per esempio le scale mobili, i percorsi pedronali meccanizzati, gli ascensori, tutte soluzioni che in altre città vengono praticate. Per esempio Potenza. Potenza addirittura sì, poi Perugia, poi le piccole città come Gubbio, come Urbino, hanno investito in questa mobilità meccanizzata alternativa, non inquinante, che consente lo spostamento. Perché noi alla gente dobbiamo dire di non eccedere con la macchina, ma dobbiamo garantirgli come muoversi. Quindi non possiamo condannare la gente a non muoversi, dobbiamo farli muovere più facilmente. Ecco, poco fa parlavamo del quartiere del Rabato, un quartiere antichissimo che conserva quasi inalterate le sue strutture. Ecco, dal suo punto di vista è possibile un recupero di questa zona oppure è condannata all'ublio? Allora, intanto ci vorrebbe un piano, perché Rabato-Santa Croce fu un piano di recupero degli anni Ottanta, forse addirittura approvato dalla Regione, ma mai attuato e pertanto decaduto. Tra l'altro adesso avrebbe fatto uno strumento urbanistico sulla contemporaneità, sulla condizione attuale, quindi bisognerebbe fare uno strumento urbanistico, anche, diciamo, snello, come consente la variante generale della circolare 3-2000, e quindi fatto un'ipotesi di ricostruzione e di ripopolamento, con residenze universitarie, residenze per giovani coppie, luoghi di incontro, perché dal punto di vista spaziale, il Rabato continua ad avere un grande fascino, una grande bellezza spaziale e paesaggistica. Ecco, tuttavia, in questi mesi, il Comune di Agrigento ha provveduto a transennare l'intera area, isolando di fatto anche le abitazioni che non state restaurate. Secondo lei, da parte delle istituzioni, c'è la volontà di, tra virgolette, uccidere il quartiere? Io mi auguro di no, mi auguro veramente di no. Poi, bisogna vedere, ci sono transenne e transenne, anche a Napoli, dopo il terremoto dell'80, quello famoso, ci furono dei grandi transennamenti, però fatti sempre con l'accortezza di lasciare passare la gente, quindi erano dei varchi, diciamo, non totali, e anche questo è importante. Io mi auguro invece che i comuni, che i sindaci, al di là della prima reazione emotiva, che consiste quella di mettere in sicurezza, o peggio, di demolire, che si faccia invece una riflessione, e anche una richiesta alla Regione, per avere intanto i finanziamenti per i piani, perché senza i piani non si può fare nulla, perché le scelte allora diventano casuali, non si sa cosa mettere, non si sa come individuare le istituzioni d'uso, le funzioni, insomma, le città sono cose serie, vanno pensate in maniera sistemica, in maniera coordinata, coordinata, non in maniera frammentaria e scoordinata. Ecco, al di là di tutte le ipotesi di recupero, resta sempre il problema che il centro storico è attorniato da dei togli che lo soffocano. Sì, questo lo sappiamo, e purtroppo non abbiamo la bacchetta magica, noi possiamo realisticamente pensare che un domani prendiamo una accetta e le tagliamo a metà. Quindi, probabilmente, se in un lontano futuro, anche questi edifici vanno in obsolescenza, potrà esserci forse un giorno in cui varranno di meno dal punto di vista del mercato. Ecco, soltanto se esauriscono il ciclo di lizio e non c'è più una domanda sociale ed economica di questo tipo di edifici, però potrebbe essere un'economia, diciamo, più stabile e più ricca, allora si potrà presumere di fare qualche abbattimento. In definitiva, attraverso la rinascita del centro storico potrebbe anche rinascere l'economia agrigentina. Affidare tutto al centro storico forse è un po' velletario, ma il centro storico potrebbe però concorrere anche come attrattiva turistica, potrebbe concorrere a risolvere il problema della residenza, potrebbe riportare popolazione lontanissima oggi dal centro a vivere in forme di comunitarie più piacevoli, più gravevoli, più comode. Ecco, per concludere, qual è il suggerimento che si sente di offrire alle istituzioni, agli ordini professionali? Ma guardi, io dirigo un centro di ricerca universitario, interdipartimentale. Abbiamo firmato col Comune di Agrigento un protocollo, senza oneri, in cui dichiaravamo dalla nostra disponibilità a fordire al Comune di Agrigento qualsiasi supporto tecnico-scientifico per programmare studi, piani, politiche, da attuare tramite poi singole convenzioni, naturalmente con costi molto limitati per il Comune, perché noi come Università naturalmente non chiediamo compensi elevatissimi, perché c'è di mezzo anche il nostro interesse scientifico. Io mi vorrei augurare che il Comune e anche gli altri enti o altri comuni si decidano a usufruire di questa nostra disponibilità, perché da parte nostra c'è anche una grande passione e un grande impegno civile nel poter fornire questo tipo di servizio. Grazie a tutti.